Ah, risveglio brusco. Allora, avete fatto il riposino, il pisolino? No, è presto, sono le 10 e 10 del mattino. Il pisolino, di solito, si fa il primo pomeriggio. Dunque, citeremo anche Pasolini, regista di Uccellacci e Uccellini. Ok, bambini, finalmente ho visto tutti i soldi del mondo. Allora, diciamo, qui c'è un cast eterogeneo, diciamo, e allora, ci sono anche attori calabro-lucani. Allora, la prima parte sarà Goliardica, un po' romanesca, diciamo, poi sarà Lino Bambianesca, anzi, lo sarà subito. Forse questa recensione, che più che altro è una mia analisi, disamina spiritosa, perché io possiedo una vera comica innata, sì, sì, io sono un personaggio tragicomico, e sì, qui si parla di cronaca nera, e alcuni, come vi leggerò, hanno sostenuto che il film involontariamente provochi una risata da barzelletta. e i miei barzelletieri, e ieri, e ieri, 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 ieri sera lo vedi. Dicevo, forse ripartirò questa recensione in due spezzoni. Il primo segmento di questo film è bello, il secondo, diciamo, allora, quando finirà questa frustrazione? Quando termineranno queste limitazioni? Allora, Lino Banfi, il commissario Logatto, io sono il commissario Falò, si scriverò un giallo, diciamo, ambientato in Garfagnana. Scusate, piango, no, no, raffreddore da fieno, ma in Garfagnana non c'è il fieno, però ci sta il raffreddore, vi ricordate quella battuta? Poi, in questa recensione citeremo anche una battuta diversa, diverse battute, ci saranno. Allora, voglio diversificare, allora, ci sono recensioni serie, riflessive, del falotico serioso, malincolo, e poi c'è il falotico vigoroso, caloroso, diciamo, da uomo del sud, diciamo. Dicevo, siamo agli arresti domiciliari, io scriverò un giallo alla matricena, all'italiena, alla napoletena, diciamo, dopo Bologna e Zanguinet, questo mio libro che trovate sulla maggior catena di Brerlein, acquistatelo, perché abbiamo bisogno di soldi, ecco. Altrimenti poi il sole non sorgerà più, diciamo, a livello metaforico, e ci troveremo soli, e più che altro, infreddoliti, raffreddetti e schiandeti. Allora, se uno schiando, ma, insomma, capelli, non sono più quelli di una volta. Allora, adesso, dopo queste giravolte lessicali, vi darò anche lezioni di italieno. Allora, sono dimagrito, sciupeto. Allora, tutti i soldi del mondo, recessione economica, no, perché c'è Reset, Deep State, no? Allora, qui c'è un complotto, c'è uno scuro macchinazionale. Ebbene, oggi recensiamo, si abbondiamo, di plurale maiestatico, moltiplichiamoci nella pluralità. E l'esa maestà, attaccare il potere, potere costituito, la costituzione, no? Allora, tutti i soldi del mondo, hold the money in the war, di Monsieur Ridley Scott, ladies and gentlemen. Questo è inglese, poi anche le francesine, quello, diciamo. In concomitanza, con le riprese, attualmente in corso, in quel del lago di Como, questo matrimonio non sa da fare. Infatti era meglio se non si sposava la Reggeni con Gucci, interpretata da Adam Drive, perché i promessi sposi, e poi, diciamo, le promesse non sono state mantenute, anzi. Allora, voi andate a messa, allora, della sua nuova opus, ovvero House of Gucci. Citeremo Kevin Spacey, che è stato totalmente censureto, ostracizzato, immaginato, queste discriminazioni in Bosca Brose, di una vicenda, non del tutto chiara, su cui indaghera, il commissario Falò, diciamo, House of Cards, no, House of Gucci, Mezzanotte, giardino del bene e del male, allora, con la regina più trasgressiva e irresistibilmente sexy del panorama musicale e cinematografico del mondo, perché è molto fotogenica. Allora, Mrs. Robinson, anni 60, primi anni 70, siamo nei 73, e Wild Horses, inizia molto bello con questo bianco e nero che poi sfuma, sembra lo spirit, il boss e la bionda, Mad Dog and Glory, di John McNaughton, c'è questo bianco e nero così, che poi, lentamente, diciamo, desaturato, così come questa fotografia, diciamo, opacizzato, però tendente al coloretto, forse lo sbiadito, impallidito. Allora, non impallidite, è chiaro? Non ammutolitevi, siete sterefetti di Nenzo, questo Falò, così. Allora, 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 Mrs. Lady Gaga qui nei panni della Dark Lady Patrizia Reggiani e nella vita reale, oramai regale per via dei soldi da lei accumulati, matrona invincibile della femminilità più fascinosamente perversa e ancestrale. Sì, è la Madonna, il mistero di Fatima, è una fata, è statuere, è divina, lei l'incontra stata 34enne. Sì, signore del gossip, per eccellenza, vale a dire la splendida torbida, è voluminosamente misteriosa, torna volutuosa, che mi fa impazzire, mi rende così, focosso, spagnolecciante, che poi, insomma, non sta benissimo messo, però, insomma, che mi fa impazzire più di tutte le altre, poiché talvolta pare l'incarnazione della Gioconda, cioè il ritratto vivente di un eterno capolavoro di Leonardo, Leonardo da Vinci. Chi la dura, la vinge, con questa qui. Chi la dura, ma anche chi ha i soldi, la vince, perché se no, se rimani, povero bambacione, sfighetto, di Leonardo, esemplificato nella sua immane carica erotica, seduttiva, profondamente ambigua. Questa è la Gioconda. Allora, Lady Gaga, androgine al contempo, emblema totale del sex appeal, come disse Morando Morandini, poi citeremo il meme, e citeremo, no? Eciteremo, raggetti, il sex appeal, questo neologismo, diciamo, basta con questi forestierismi, basta con le sterofilie, perché chiamate degli attori stranieri per interpretare gli italiani, allora, del sex appeal più bestiale e muliebo, 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 insomma, e la muliere, San Giovanni De Collato, avete visto che? Che è Collone, che ha Lady Golden Lady, scusi, in quanto sa essere porca, soltanto ammicchendo, inavvertitamente, ed è contemporaneamente, straordinariamente elegante, anche quando, miei uomini poco galanti, anziché indossate, tagliore e pantaloni maschili, lascia intravedere con classe le sue magnifiche caviglie, sinuosamente allineate, intarsiate perfettamente, di questo impaginato, splendido, splendendo, no, e sensualmente intonate, allora, allineate, intarsiate perfettamente, e sensualmente intonate, mi piace la mia intonazione, e questa impaginazione, allora, ha le sue feline, iper sensuali, in movenze, da superbo, lato biperenemente basculante, e per noi uomini, decisamente rapante, scusate, non perdiamoci, in seghe non metali, questo, tutti i soldi del mondo, non vale, diciamo, a Bologna, dico, quella è una, una prunina, una, non vale una pugnetta, ma è comunque piacente, certamente godibile, ma non amabile, sconfinatamente, qui però, che cosa è successo, qui, presso una botta, qui, proprio, questo è il bianchetto, proprio, ecco, scusate, no, e passionalmente, come Lady Gaga, una donna, Kuga, la Kuga, no, che, che poi c'è quello scandalo, sessuale, di Al Koga, no, no, per cui sborserei pochi soldi, a me, depositate la Cari, Sbo, eh, i carini, Cari Sbo, il boh, boh, sì, la cassa di risparmio, pur di pagarla profumatamente, che questa, diciamo, usse tutti i profumi migliori, se anche solo privatamente, mi donasse una notte d'amore, se vado, secondo l'asta che fu, Lady Gaga, prototipo della lusturia, personificata, un po' androgina, un po' ambigua, come Vladimir, luxuria, con la X, no, allora, XX rated, ecco, proprio, censureto, Kevin Spacey, ce la vogliamo dire, senza pensare sulla lingua, anzi, speriamo con i suoi, dopo un rapporto con lei, non solo, orale, c'è una gnocchia esagerata, io non sono però uno da quattro soldi, è nemmeno uno che vuole mandare tutto a putere, neanche sono magnaccia, Lady Gaga vuole denaro, sporco, dai veri magnati, mannaggia, eh sì, Mie Mangioni è una donna imperiale che, e qui ci vuole, diciamo, la recitazione, ecco, alla Russell Crowe, o alla Luca Award, imperiale che durante le pause di Chuck a Roma, di House of Gucci, al sopraggiungere della caliente e stuzzicante night, dopo una giornata spossante di lavoro, duro e stressante, ospita nella sua suite d'albergo lussuriosa, no, lussuosa che affaccia sui fori imperiali, un uomo che le sia a letto gladiatorio, al massimo, decimo meridio, eh sì, qui c'è un'ambientazione anche a London, a Londra, lì vicino c'è il meridiano di Greenwich, io sono il Grinch talvolta, allora con tanto di doppietto del doppiatore Luca Award, romanaccio di origine controllata, più di un piatto di fettuccina, la matriciana, qui sono anche un po', diciamo, alla Toscana, no, allora, Lady Gaga è gioconda, è giocosa, sì, di giochi d'adulti, gioca sporcamente, eppur rimane in tos, la sua caratura, non ha mille carati di qualche dente rifatto, io dovrei, qui qualche dente va sbianchato, qui, diciamo, sono stato fin troppo in bianchato, allora, state sbianchate, ripeto, allora, di qualche dente rifatto, è immacolata, immacolata, abbiamo detto, madonna, no, no, Dorata, lei interpreta di Astralisborn, è una stella già immortale, è un po', agli morale, allora, è non una friabile cometa che non cadrà mai nella notte di San Lorenzo, quella è la notte, allora, miei lazzaroni, eh, quel lazzareto, allora, mica una meteora, uomini panzoni che soffrite di meteorismo, di flatulenza, e che vi siete ridotti solamente a leggere le previsioni meteorologiche, che tempo che fa, Fabio Fazio, e quale sarà il nostro tempo, vabbè, lei è una tigre, divoratrice d'ogni volpone, veste anche pellicce l'opartate, è uno d'alto bordo, mica una lupa qualsiasi che batte vicino ai castelli romani, eh sì, miei poltroni e pelandroni, Lady Gaga adora farlo pure su ogni poltrona, miei tardone, eh sì, qui parliamo di una signora, come è detto la notte scura, eh sì, miei figli di, no, cioè, no, d'altro l'altro, per entrare in Lady Gaga, no, in uno di quei forni crematori, cioè, perché adesso c'è un regime di dittatura sanitaria nazifascista, cioè, no, nei fori degli imperatori, bisogna passare per colonna, colonna, la colonna, colonna, per colonio monzese, no, allora, per colonna troiana, imboccare poi quello di Cesare, date alla Cesare, no, date alla Gaga, ogni cicolò, cioè, quel che è di Cesare, ma anche di Mario, di Giuseppe, e qui sono un po' Rino Gaetano, no, gen, 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 e forse di qualche ricco rebello, uno che non va mica a Ricciona, Rimnio, quello, Babagioni, quello va alle Seychelles, non so, non so, i miei, i cichioni, è una donna, da alcuno sfondetto, e mica una moralista, bigòtica, che crede, insomma, il cui sfondetto, al Vaticano, cioè, questa qui, tutte le pap, e un sol boccone, se le magna, ebbene, tale House of Gucci, sarà una, puttanetta storica, parimenti, a tutti i soldi della Gaga, qui c'è però la dieufonica va bene poi ci sarà la scala sdruccioleva perché quando scendono le scale diciamo voi non salirete la scala gerarchica non arriverete poi ci sarà una parola sdrucciola durante questa recitazione ho detto eccitazione ad all money in the world la germanotta tutti se li girano no, questo film sono citato nella capitale italiana stanno girando i cazzi basta ora con l'essere prosaici e con le popolane prosaici cioè volgheri invece la mia prosa è elegantissima raffinatissima che sono tutte queste ville no villan villanì eh Paolo Merighetti lui è sempre molto fine discreto cortese lui recita con la sordina sì sì allora è sempre trattenuto però non si trattiene qualche volta da fare qualche allusione Merighetti allora Paolo Merighetti nel suo dizionario stroccò tutti i soldi del mondo altrettanto fece impietosamente senza pietà come no scusi mi è andata a Roma lì c'è la pietà di Michelangelo allora fece impietosamente sull'editoriale del Corriere della Sera della Sera che poi diciamo il tramondo la Sera e poi arriva la notte leggiamo testualmente integralmente la sua recensione edita a mo' di plebiscitario editto editto plebiscitario no pubblicata in data 3 gennaio 2018 e la seguente miei amici condottieri orsu seguitemi e non più perseguitemi non perdete il filo di Arianna quello di Charlize Theron della celeberta ma pubblicità del Martini e lo spacco del minigone della Gaga mie Gaga e la che Mereghetti il Cesarone il nostro no Cesarone alla Claudia Mendola no il nostro Cicerone e sì i miei guaglioni e i marguoli i marpioni non fate i furbori ecco la trascrizione questa recensione è lunga mi sto allungando troppo speriamo di allungarlo ecco dicevo ma che film è mai questo tutti i soldi del mondo non è opera di finzione però un po' poi dirò che è un po' una fiction come spiegano le didascalie all'inizio come spiegano le didascalie all'inizio e alla fine che ribadiscono il legame con la storia e l'intenzione di collocare la trama all'interno di quel nodo di vipere che fu la famiglia Getty ma non è neanche opera di ricostruzione interpretazione perché la libertà è la statua cioè una statua cioè viene da New York da Los Angeles di Gaga no perché le libertà che si prendono lo sceneggiatore Davis Carp regista Ridley Scott sono tali e tante da rendere inattendibile quel che si vede a cominciare dal luogo del rapimento che non ha bene nel lungo viale frequentato da prostitute perfettamente bilingui veramente parlano anche cioè sono un po' le glotte cioè vivono lì nelle grotte però allora ma nella ben più centrale piazza Farnese poi si vede si intravede piazza di Spagna forse la fontana di Trevi cioè acqua a cosa della dolce vita di Lizio feliniano no allora l'idea di Ridley Scott per il suo venticinquesimo film era quella di abbandonare i terroni no i terreni a lui più familiari della fantascienza e dell'action per raccontare l'aprivento di Paul Getty Tarzo Charlie Plummer nel suo rapporto con l'attore Christopher è prelevato il 10 luglio 1973 a Roma e liberato in Basilichetta il 17 dicembre dello stesso anno dopo che nel novembre gli era stato tagliato un orecchio per sollecitare il pagamento qui sono il basilichese cioè il pagamento è riscatto all'inizio c'è 7 milioni di dollari poi scesi a circa 4 c'è un miliardo e 600 milioni di lire oh potente ma la sceneggiatura così come i sequestratori legati all'Andrine Calabrese Calabro Lucano cioè siamo uomini d'amaro Lucano cioè Bologna Bologna interessa soprattutto la reazione del nono del rapito il magnato il petrol Paul Getty prima Christopher Plummer è lui l'uomo più ricco del mondo ci fa sapere il film ma è lui o non è lui e allora il primo il secondo il terzo che dichiarò subito l'intenzione di non pagare alcuna cifra per evitare ulteriori rapimenti dei suoi numerosi nipoti poi ecco nipoti qui c'è del nepotismo diciamo chiamiamo sempre questi attori no allora accentuando poi vi dirò a proposito dei nipotini qui qua 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 ecco perché Mereghetti dice accentuando così il suo scontro poi attendi all'acento adesso arriveremo sulla parola struccio con Abigail Harold Michelle Williams moglie divorziata di Paul Getti secondo questo Andrew Bucca e madre del rapito e di altri tre figli il sinistro sinistro no il mostro cattivo e quindi un uomo sinistro è ricchissimo contro la mamma buona tra virgolette povera poveri disgrazi e si arrangiasse io non le do una lira e in mezzo il freddo calcolatore l'ex agente CIA Fletcher Chase Mark Wahlberg è un duro questi Fat Boogie Nights che il magnate mette a fianco cioè a fianco di allora qui Franco Frank tutto questo comicità ultimo tango a Zagaro che non ha preso per il culo ultimo tango a Parigi poi Lady Gaga dei ben fianchi forse come la Schneider allora qui recitiamo la Marlon Brando l'ora dell'ex nuora per aiutarla nella trattativa andranghe tra la mafia la famiglia la famiglia poteva essere lo spunto per un confronto teso appassionante però film spreco capisci con una serie di cadute che a volte rasentano la comicità involontaria l'incontro di Chase con le Brigate Rosse che all'inizio qui scrive con la R minuscola io trascrivo esattamente così che all'inizio sembravano coinvolte per far capire chi sono tengono uno standardo con il loro nome ben in vista nel loro appartamento scusatemi mi scusi signor Francis Forcopola lei che ha girato a Roma padrino parte terza io the godfather c'è Pacino comunque in House of Gucci mio figlio Michael Corleone Apocalypse Now ma guardi dobbiamo essere apodittici apocalittici nichilisti in questa società ormai data ecco adesso basta con Marlon a volte scivolano nei luoghi comuni più scontati la corruzione l'incapacità delle forze dell'ordine italiane a volte penalizzano attori altrove eccellenti come Romain D'Ore che è insomma le panni del sequestratore 50 50 per 50.000 lire un tempo la gente cioè questa è qui cioè costretta a smorfie sovrumane si immagina per via della sua origine calabra allora frangese e calabresco allora ma più dei luoghi comuni su un'Italia che sembra uscita le barzellette infatti ci sono tanti carabinieri soprattutto nel finale quello che sembra interessare davvero a Ridley Scott soprattutto la casa di produzione Sony era mettere il film al riparo dai boccottaggi il pubblico americano poi vabbè non indaghiamo non addentriamoci nel perbenismo puritanesimo ecco nella bigiotteria che poi insomma ci sono delle battute su insomma i soldi ma era i souvenir la silhouette Lady Gaga cioè no dice allora dopo che Kevin Spacey si scelta l'origine per il ruolo all'origine ma che origine ha Kevin Spacey per il ruolo del miliardario era diventato uno dei nemici da abbattere nella guerra ai molestatori sessuali e così a sei settimane dall'uscita americana il budget del film è passato da 40 a 50 cioè è passato a questo romano si chiama 50 no milioni di dollari per chiedere a Christopher Plummer di rigirare le 22 scene neanche contate Merghetti in cui appariva ecco il reprobo reprobo cioè allora qui c'è la E c'è c'è aperta c'è più c'è la gara c'è spesi a ritmo di 18 ore al giorno di lavoro un tour de force non indifferente per l'87 a Thor can dice sarebbe bello poter confrontare le due interpretazioni quella di spesi sia l'intravista diciamo in qualche spaccato di provincia in alcuni trail ma la prova di Plummer è comunque una delle due cose buone del film non Plummer non Plum Cake poi citeremo fruscianti che dice così insieme a quella di Michelle Michelle Mabel diciamo gli anni 60 Beatles viene citato Mick Jagger Rolly Stone Michelle Williams sono loro con l'intransigenza dell'uno e la testardaggine dell'altra a dare al film qualche momento di interesse quello in cui re delle scorte si ricorda di essere ancora un buon racista capace di giocare sui contrasti cromatici dei caratteri e tenere a destra l'attenzione dello spettatore per il resto la pellicola scivola nel previsto nel prevedibile quando decide di travolgere non è travolgere no di stravolgere decisamente i fatti ricostruendo a conti fatti cioè a capocchia insomma il capo dei capi la mafia cioè la liberazione di Giovanni Ghetti castigando con una morte prematura in realtà se ne andò due anni dopo il super cattivo del film cioè che il villain cioè che è che è Spassi di Super cioè no no allora che sono tutti questi sospetti sono i sospetti cioè no allora invece si ritratta esageratamente sopra le righe tra barba blu che qui se la prende con i figli e non con le moglie e zio paperone 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 paperonis cioè allora in questa recensione c'è stata in questa mia recitazione qualche paper ma ci sta io ancora leggo il manuale delle giovani marmotte ecco o marmitone qui invece la mia lapidaria infantile è regressione cioè sono sono un tipo ma basta con questo polore come Lady Gaga diamoci a topolini superba recensione ma copio in collo prima anche la sor la sor cioè la sor cioè la trama la sorta di prefazione da wikipedia quale sarà la mia sorte che poi si dice qui nel film testo croce ma che giochiamo il 10 luglio 1983 a Roma alcuni membri dall'andrangheta rapisco il 16enne John Paul andiamo avanti il miliardario lascia tutta via la stampa i rapitori stupefatti quando si rifiuta categoricamente poi quelli si fanno anche un po' di pagare la somma pattuita anche se questo potrebbe significare la morte del nipote per Gail Harris qui c'è ma qui è tronca stroncata cioè che mi spese ormai la carriera è totalmente rovinata infangata la reputazione è totalmente rovinata madre del ragazzo ed ex nuore di Ghetti inizia così una lotta contro il tempo per salvare il figlio da morte certa allora partiamo i prodi contro i porci e i prodi e viva Roma Roben cioè no no non l'attore e viva Roma Luisse Troia Itaca e l'Italia dove il pettegolezzo abbonda ah quanti vigliacchi ne sa qualcosa di un abbondo allora abbondiamo Totò è la malafemmina cioè che quella è Torian Gray ma non è quella di Oscar Wilde cioè che poi Oscar Wilde assomiglia un po' a Pasoli cioè quello faceva delle requisitori che poi è stata inguissita perquisita arrestata cioè allora miei vili allora gli uomini che vi credete virili fatti tutti così io sono il carabiniere tenente appuntato cioè appuntatevi quello che dici molto importante allora il re è morto il re è morto invece Fabrizio Corona e non è prima era stato ingolonato poi è stato diciamo denunce ma comunque anche lui povero disgraziere allora Charlie Plummer è davvero il nipote di Getty Plummer o trattasi di casuale omonomia è tratto da un saggio omonimo dovete essere uomini sacci allora come disse Corrado Cuzzanti la seconda che hai detto Charlie Plummer rimarrà un attore piuttosto anonimo quando morirà più ricco di Getty la gente lo ricorderà Saraccio è tramandata ai poster a modi Denir che doveva essere i Gucci però ai poster oppure le persone si domanderanno perché le nostre azioni cheggiano risuonano nel tempio o forse al Colosseo allora semmai se lo chiederanno come si chiamava pure quella torre lì non ricordo ricordo eh a Marcord Bologna Riminese allora Corrado Cuzzanti la seconda che hai detto quello quello lì ove quello viene detto la romana cioè quello e che quello quello io scrivo liberamente equilibrio da vincoli editoriali trovate comunque le mie notizie news gli aneddoti su questo film House of Gucci su Daruma Viucina allora e poi avete visto come la cucina cioè anni 70 con le piastrelle come la mia cucina in questo film senza le marchette di Scott che chiama giallito ripeto solito battuto diciamo i miei denti sono un po' gialliti uno che veste anche Armani fra l'altro che Deniro è vestito c'è la gangster c'è negli indoccabili da Armani quei bravi ragazzi e non paga i vestiti firmati cioè qui insomma si frequenta la griffa della la crema della crema che poi questa lady gaga è un po' bassotta cioè la banda bassotta abbiamo detto però è slanciata di gambe cioè sembra una giraffa cioè firma solo i contratti questo Jared per ricevere tutti i soldi del mondo affinché indossa senza interesse pure Ermenegildo segna comunque fu il testimone dello sposo chi sarà in questo Gucci no il testimone fu anche Deniro ecco semmai Getti Gucci e soprattutto miei ciucci qui la pronuncio adesso non mi va di verificare di appurare Baldazzar Baldazzar cioè il Remed no Baldazzar Getti è davvero il nipote di suo bisnonno Christopher Plummer no Jean Paul Paul nel mondo cioè no no John Jean Paul ho dello stesso personaggio interpretato da Kevin Spacey in tutti i soldi del mondo io sono un grande attore quando voglio altra che Kevin Spacey Deniro io sono bambianesco io sono così metto pepe diciamo perché diciamo nelle nostre parti in meridione si usa tutto l'olio piccante c'è l'olio che poi Lady Gaga cioè quella ha bisogno del frizzandino che poi diciamo allora certa gente nasce con la camicia con il culo della madonna chi la ciccone o la gag certa gente ha bisogno di lavorare farselo farselo è già è già baciata dalla fortuna della nascita tant'è che David Lynch per aver inserito l'orecchio mozzato i ghetti Charlie Plummer in veluto blu no no scusate volevo dire mi sono perso vado ritrovato l'agente Cooper ma forse lo stesso Cooper va ritrovato come il suo monimo cioè Killer Joe Matthew McConaughey o quello di Death Star allora andiamo avanti allora che sono queste storie misteriose la Twin Beaks esatti in strade perdute hai perso la strada vai raddrizzato devi rimetterti in care jet Lynch regalò a Baldassarre Baldassarre ma non era Baldassarre che regalò a Gesù Cristo cioè che c'è allora la possibilità gratuita di poter toccare come si chiamava quello lì come si chiamava i rei ma i sette re di Roma allora di poter toccare persino i fondoschieri nudi Patrice Archette capisciste abonine ecco e qui che poi questi attori hanno recitato forse in inglese in francese e poi sono stati ridoppiati non da Luca Ward dagli stessi attori insomma che sono un po' ecco di arte da arrangiarsi va bene così per il doppiato perché se no capiscisti come dice Marco Leonardo in tutti i soldi del mondo Leonardo non Leonardo nato a Melbourne eppure dall'accento spiccatamente siculo eh da Rossi nuovo cinema paradiso docet qui interpreta insomma il capo capo mafia cioè mentre nuovo cinema paradiso Luigi Locasch no Totò Locasch cioè Salvatore da adolescente ma qui non è Salvatore di niente però eh Salvatore Tornatore Barì e Barre Bear io so the Bear oh ah ah Leonardo attore di Viva San Isidro con il Locanda d'Osteria no Locandina lui ha binghiato le gambe avviluppanti lumi Cavasos quella di come l'acqua quel cioccolato da non confondere come l'acqua per gli elefanti Robert Pattinson lì c'è Riz Witt e c'è Christopher c'è eh sì non sono Elephant Man David Scarpe è uno sceneggiatore che fa tutte le scarpe uè ma allora un giabattino oh in questo film abbiamo anche appunto questi due attori francesi che parla siciliano stretto meglio di Rosario Fiorello perché adesso è integrato però lui ex di Giannini Giannina Fecio eh sì che oggi sta Giannini sta corriendo le scotte e produce anche è produttiva molto infatti ha prodotto questo Gucci questo ha origini calabresi e nel Tuguri in cui è segregato Ghetti bisogna stare zitti e Mosch eh sì però in mezzo a tale sporcizia volano i calabroni i calabroni non i calabresi per dirlo Federico fruscente è tutto un troiaio fruscente però a serine la sua monografia su Scott e tutti i soldi del mondo sia più che soddisfacente adesso la prima ora è girata molto bene la tensione palpabile più di Lady Gaga e Patrice Arquette e non so cioè è tangibile no cioè e non so come abbia fatto Scott a sostituire Spessy all'ultimo minuto rigirando tutto con Plummer oh da poco con Plummer da poco per l'altro è deceduto richiamando tutta la troupe e il direttore della fotografia Darius Moschi Moschi nella seconda ora non è il luogo comune dire a ragione così come sostenuto a Meretti che che le inattendibilità e le inverosimiglianze siano davvero indigeste per l'appunto insostenibile assolutamente ridicolo al che il film diventa una fiction la grande bellezza da riservirla la Giulio Basi infatti compare pure lui oh e dobbiamo porre le basi per ricostruire quelle società allora e già Giulio cosa si farebbe pur di capare Martini il capare allora comunque in famiglia state bene tua moglie è quella gnocca della gara no di Tiziana Rocca altrimenti queste vite cioè come questi castelli di rocchetti poi crollano a pez e nel film poliziotti ficcasti Kim Rossi Stewart no anche Nadia Fares in senso letto poiché questo Baldassare ebbe culo in senso metaforico quello dell'archetti in senso no in fisico senso Claudia Mendola ebbe quello di Monica Bellucci pure di Nadia Nadia Cassini io oh che ho recitato con Nadia no forse chissà lo ebbe il doppiatore Luca Ward no Luca quello di Giada Desideri Luca ridoppiò poi ti dicono ma è lì alla fondana di Trevi dove c'è Anita Echber c'è c'è butto la monetina e esprimi un desiderio il mio desiderio di stare con la desiderio cioè Luca ridoppiò James Wood sincero una volta in America girato però più a Roma mentre De Niro nella versione storica originale fu doppiato dalle fettucine ma andava a letto presto lui perché poi doveva recitare no da ferruccio che casilli che bordello e vi impasolino se in effetti molti mi paragonano a Pierpaolo infatti da tempo cercano di ammazzarmi no di ricattarmi e sequestrarmi di farmi passare per pazzo ma di andare a letta a farlo con le pazze affinché la mia famiglia a modo di ransom con Mel Gibson di Ron Hauer paghi a delle merde mafiosi riscatto la pagheranno uno scandalo mi faranno prima o poi fuori la maniera di William De Faux del Pasolini di Ferrara e non ho i soldi per una Ferrari e neanche per Isabella grande bellezza o dell'ultima tentazione di Cristo Monica Bellucci no lì c'è Barbara Harshin cioè anzi sapete che vi dico finirò di girare porno Teo Colossa poi alcuni scriveranno anche Teo con l'h ma non Teo Teo cioè la c'è a parte l'esagerazione le provocazioni non la boccata tutto cioè su boccata non la boccaccia ecco a parte Mamma Roma a volte Scott è una cattone non so se starò nella registrazione altrimenti taglieremo tutto anche cioè Michelle Williams è bravissima ma non è la differenza della Gaga a una Milford in Shutter Island ammazzò i figli qui si redime non piange quasi mai dice alla fine al figlio piangi anzi nelle scene tragiche sembra che ride sotto i beffi come la Franzoni Mark Wahlberg è spaisato e sembra scoglionato come se dicessero per fortuna ma non pagare tutti i soldi del mondo per rifare tutte le scelte con Christopher Lambert du coglione du marrone tutti i soldi del mondo non fa venire du pal però è molto brutto in molte parti ripeto se avete avete qualche soldo a parte non vi basteranno per riscattare Lady Gaga e Interscarvel cioè per ingu quella non vi gu cioè dunque avete due possibilità per farvela no per farcela accettare di averlo preso in quel posto e farvelo duramente perciò certe idee di fruscente sono pienamente condivisibili quando invece strumentalizza addirittura Scott capitalista per eccellenza dicendo che Scott con tutti i soldi del mondo voleva raggiare un messaggio politico cioè far ridere i polli cioè che nell'arena può allare cioè pure purissime fare indicazioni populistiche retoriche da se famo du spaghi e baccalà o paghiamo alla romana la romana o alla livornese vota il film per finire 6 e mezzo forse 8 facciamo 4 e tagliamo l'orecchio no la testa al toro anche al porco alle lupi 33 minuti negli anni di Cristo 33 e 33 basta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti